Allora Lucas, oggi ogni kill che andrai a fare sono 100 euro ragazzi Ho preso un pochettino di soldini ragazzi per fare Quanti eri presi? Ho preso diciamo i soldi per una quindicina di kill No vanno a prendere altri Altri Cacciamo le 20 bombe Le 20 bombe ragazzi Io e Lucas spero che è un senso tentativo Siamo arrivati a 30.000 like nell'altro video quindi mi sembrava giusto portare questo video qua con Lucas Io però ragazzi questa volta vi chiedo una cosa Lucas siccome oggi ti andrò a regalare una fraccata di soldi Che sono i soldi che ti regalerò per il tuo compleanno Natale tutto messo insieme Sì Lucas se questo video Ascoltami bene ci devi stare però Va bene Se questo video dovesse arrivare a 50.000 mi piace Lucas 50.000 50.000 Sì Ti faccio i cappelli a zero pelato Non mettete like 50.000 like ragazzi facciamo Lucas pelato Ci sto perché ho detto ci sto va bene 50.000 like 50.000 Stato non ci arriviamo Ragazzi l'ha detto Non ci arriviamo Lucas ci arriviamo Ragazzi nel video con l'ho siamo arrivati a 70.000 like quindi oggi a maggior ragione Devo arrivare a 50.000 like per fare pelato mio fratello ragazzi Quindi mi raccomando che mi piace Lucas No non ci arriviamo 50.000 like ti faccio pelato Va bene Non ci arriviamo Va bene Non ci arriviamo Ragazzi è tutto nelle vostre mani Tu che stai guardando questo video Lascia mi piace adesso Quindi 5 4 3 2 1 Lascia mi piace per favore che ha 50.000 like Faremo una live Una live dove ti taglio i cappelli a zero Va bene una live ci sta Tanto non ci arriveremo a No esatto Non ci arriveremo a Ragazzi 50.000 like Ed eccoci qua Con la partita Decisiva Vai Hai un tentativo solo Lucas Per vincere ogni kill che fai 100 euro Quindi mi raccomando ti auguro buona fortuna Io ragazzi ve lo ricordo Abbiamo una settimana di tempo per fare 50.000 like sotto questo video 50.000 like Per fare pelato a zero ragazzi Mio fratello Quindi è tutto nelle vostre mani Mi raccomando vi prego per favore per favore Lasciate mi piace Voglio vedere ragazzi Mio fratello pelato sarebbe veramente un sogno Quindi mi raccomando Lasciate un sacco di like vi prego Lucas Buona fortuna No c'è tantissima gente Meglio meglio Secondo me Pronostico da parte mia Non fai più di 5 kill Piace Ma sono piace Buono buono Per forza non ne fai neanche una Buono Scusami tra lento Sì Ok C'è un nemico? Sì ma non si capì Niente non c'ha armi No please L'esco Bro quanto rischio Lucas 100 euro così Ma sopra di te il nemico Ce ne sono due E prima di continuare con il video ragazzi Non dimenticatevi ovviamente di utilizzare il codice supporto a un creatore ZNSG nel negozio oggetti E inviatemi il video ragazzi su Instagram Mi raccomando quando shoppate le vostre skin preferite Vanno prendi il tac? Dov'è? Quanto sei impanato ragazzi Ce ne sono due Ce ne sono due Ragazzi sta panicando Sta panicando un botto Oh mio dio le tue cuffie di Io sento tutto 21 e me la rubano Lasco Niente 100 euro Altri 100 euro per Lucas Oh mio dio se non arriviamo a 50.000 like non ti faccio pelato Veramente sarebbe Sarebbe veramente una presa male Sarebbe veramente una presa male Vi prego dobbiamo arrivare a 50.000 like Voglio Lucas pelato Dai non può uccidere pure questo Ma è scarso Eh sì Allora c'è un altro No invece se No 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 Però io non miro Quanto sei triradando Oh mio dio perché il pompa fa così poco Va bene va bene va bene Lucas Sono già Sono altri 100 euro Lucas Altri 100 Oh mio dio Queste bouncer ci sono Quindi vuol dire Eccolo 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 Se ne ha scasso dietro La roccia Questo è scasso L'hanno cecchilato Ma cosa fai con la pioggia? Bro mi si buga Boh raga Boh raga Lesco Io sono troppo forte Lucas ma che Scusami Scusami 100 euro Così? Lesco Basta Basta Lucas Oh mio dio Non ce la posso fare Hai fatto due Oh Lucas 600 600 euro L'ha visto L'ha visto L'hai visto Lucas? Bro Gli arriva così Ma che Oddio se cadevi sull'erdo E poi morivi Ti immagini? Oddio se cadevi sull'erdo E poi morivi Ma dai Ma te Ma te becchi tutti dei Bro Ma becchi tutti dei Scarsoni Incredibili Dai ecco un'altra Sì Scitono Sarei dire Anche se era scarsissimo Vieni Grazie per i materiali Bro Grazie per i 100 euro Anche per i materiali Mi serviva Oh questo No dai Così non puoi ucciderlo Il più forte con il rampino Non puoi ucciderlo in aria Non puoi ucciderlo in aria No bro Stai fare Oddio Stai fare Lo fa Sto ragazzo Mi sta curando Niente Meno male Che è scarsissimo Shitan No però Non mi piace Ok Questo loot Faceva schifo Faccio così E me ne vado Lucas Nescozi 8 kill Lucas 8 kill Lucas Ne mancano 9 Da uccidere Solo? No bro E tu qua puoi ancora fare Ce la puoi ancora fare Puoi ancora vincere 900 euro Mi ha sparato uno Mi ha sparato uno Dai siete rimasti in 7 Dai morite L'hai visto? Sì No Oddio l'ha visto veramente Lo scarso di madre Invece questo a me non sembra scarso A me questo non sembra scarso What? Questo a me non sembra scarso Non sembra scarso Let's go Let's go Let's go Sì sì questo non è scarso Let's go Non mi sembra scarso Aia Aia Ma non vale così Col P90 C'è pure l'Aimbot 100 euro Guarda guarda Sto raffettando Quello di prima Mi ha preso Questo è un È un phase Oggi sei morito Da danno da caduta Questo è fortissimo Ti sta continuando a cecchinare Dai cazzo che ti uccide Dai cazzo che ti uccide No bro Oh mio dio Speriamo che ti uccida Basta Basta regalare soldi a Lucas Basta Bro Qua la casa Qua la casa Questa mi sembra buona Non hai più cure Speriamo Bro Stai fermo Bro Se devo morire Per colpa tua Mi dai il triplo Stai fermo Sono serio Ragazzi L'ho sentito Per favore Dai Lucas Hai pompa quello forte Che ti fa 180 Speriamo che ti ammazzi Ah Ok Scusa Scusa Zitto What? Si Let's go No Dai Ma così non vale Si lei Lo no Oh mio dio Lucas Fermo Zain Oddio C'è un nemico sopra Yes 100 euro 100 euro 1v1 Lucas Zitto 1v1 Per 1200 euro Tu hai mai giocato 1v1 per 1200 euro? Io ancora no Io non ho ancora avuto questa Questa fortuna Questa fortuna di avere un fratello così generoso Non ce l'avrai Guarda questo scarso Bro Bro Mila colpi Cosa vuole fare sto scarso? Aaaaaah Aaaaaah Dai cazzo Dai cazzo 100 euro risparmiati No No Non te li risparmia No bro 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 Noi Lo trovo Sì E' SI! Let's go! Prendi i tuoi soldi Luca! Li prendo tutti e te li flexo in faccia! Ah te ne mancano 100! Dammi gli ultimi 100! Adesso li contiamo! Li vuoi contare? Sono 1300! No! Quanti sono? 1200! Dobbiamo arrivare a 50.000 like ragazzi perché voglio vedere sto ragazzo vieni qua tutto pelato ragazzi! Quindi 50.000 like 50.000! Non ci dobbiamo arrivare! Una settimana di tempo! Non ci arriviamo? Ragazzi Luca si dice che non ci arriviamo! Io mi fido di voi della mia famiglia quindi ragazzi spoliciate arriviamo a 50.000 like iscrivetevi al canale Questi sono tutti i tuoi tieni E' nulla raga! Da Ziz è tutto Da Lucas è tutto Bella raga! Ciao! Ciao!